Giunta la tredicesima edizione, l'estate di San Martino si ferma almeno per un anno. Per quale ragione? Sì, purtroppo quest'anno abbiamo deciso di prendere un anno di pausa nell'organizzazione della festa perché, come avrete potuto vedere, purtroppo la piazza dell'orologio è inagibile. Sono cominciati dei lavori di ristrutturazione messa in sicurezza del Palazzo Comunale e anche di restaurazione del porticato di fronte. Quindi, purtroppo, gli spazi per la festa quest'anno non ci sono, c'è solo il centro della piazza che però non è sufficiente. Ci siamo trovati in questi mesi con l'amministrazione comunale, con gli alpini che entrambi, sia l'amministrazione che gli alpini. Ringrazio comunque per il tempo in cui abbiamo cercato insieme di trovare una soluzione. Da parte nostra, da parte della banda B2, abbiamo pensato a spostare la data ma non abbiamo trovato i tempi tecnici per farlo, i lavori sono cominciati prima del 10 ottobre e quindi noi non avevamo il tempo materiale per organizzare quello che magari non si vede ma che c'è dietro a questa festa. Abbiamo poi anche valutato di cambiare la location per un anno quindi i nomi sono sempre quelli, ecco, Piazza Sant'Anna piuttosto che Piazza Manzù noi abbiamo fatto alcune richieste un po' più particolari e niente, Piazza Sant'Anna è troppo piccola siamo stati giù a fare dei piccoli rilievi, delle piccole misure non è fattibile, nel senso ci mette un piccolo palco una piccola attrazione musicale, quattro tavoli, non ci sta più la gente Piazza Manzù invece mancava quel discorso un po' di possiamo chiamarla senza offendere nessuno, bellezza architettonica che la piazza orologia o solo quella piazza ci poteva dare in quel contesto che abbiamo deciso che giù la festa non ci stava bene insomma non volevamo ricoprire una piazza con un tendone bianco metterci sotto quattro tavole e dire questa è l'estate di San Martino quest'anno la facciamo qui non è nel nostro progetto questo voglio fare una promessa come Presidente ma anche come tutta la banda non è un addio, non sarà un addio ma solo un arrivederci per un anno sicuri che l'anno prossimo potremo riproporre un'edizione ancora più bella, più scoppiettante comunque nello stile degli altri anni grazie a tutti